Nuove truffe nella città di Salerno. Questa volta autrice degli imbroi sarebbero due donne che girano per le abitazioni spacciandosi per dipendenti dell'ASL con la scusa di misurare le polveri sottili. Inoltre pare che le due truffatrici risulterebbero anche armate. A lanciare l'allarme con un post sulla propria pagina Facebook e il consigliere comunale Leonardo Gallo mi hanno appena avvertito che a Salerno e dintorni girerebbero per appartamenti due donne munite di tesserino ASL, evidentemente falso e pare anche di armi. Entrano con la scusa di dover misurare le polveri sottili. È il caso di non aprire ed avvertire la polizia. Dunque si invita la cittadinanza, compresa quella residente nei diversi comuni della provincia di Salerno, a prestare la massima attenzione per non restare vittima del tranello messo in atto dalle due donne e di chiamare subito le forze dell'ordine nel caso in cui le truffatrici dovessero presentarsi alla porta della propria abitazione.